Covid-19, la Sicilia rimarrà in zona arancione fino al 9 maggio. Sfuma per la Sicilia ancora una volta la zona gialla, almeno fino al prossimo 9 maggio. La decisione sarà formalizzata probabilmente nel pomeriggio, ma i dati del report settimanale sull'andamento del contagio parlano chiaro. Non ci sono i numeri per il passaggio di colore o quantomeno sarebbe del tutto imprudente. La regione resterà in zona arancione almeno fino al 9 maggio, visto che la successiva revisione dei colori è prevista per venerdì 7 maggio e le decisioni assunte il venerdì entrano in vigore di regola il lunedì successivo. In una settimana la situazione in Sicilia è nettamente migliorata in relazione al dato dei nuovi casi a ogni 100.000 abitanti che è alla base della dichiarazione della zona rossa, in base ai dati pubblicati dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ed elaborati dall'Ufficio Statistica del Comune di Palermo. Il dato migliora in tutte le province siciliane, nettamente in 7 province su 9, di poco invece a Siracusa, mentre peggiora di pochissimo a Ragusa. Nella settimana che va dal 23 al 29 aprile i nuovi positivi ogni 100.000 abitanti sono stati 191, 8 in provincia di Palermo. Nella settimana precedente c'è quella del 16 al 22 aprile erano stati addirittura 235. A Catania dal 23 al 29 aprile l'incidenza è stata di 177, nella settimana precedente era di 197. A Enna il dato dice 54, era 122. A Mersina 97, la settimana precedente 119. A Siracusa negli ultimi 7 giorni i nuovi casi ogni 100.000 abitanti sono stati 157. La settimana da 16 al 22 aprile erano 160. A Ragusa l'ultimo dato dice 146, era 144 la settimana scorsa. Ad Agrigento l'ultima rilevazione è 106, la scorsa settimana 137. A Caltanissetta era 174, il precedente era 222. A Trapani invece l'incidenza è 64, l'era di 99 la settimana precedente. Per la Sicilia è dunque difficile diventare in questa settimana zona gialla, ma se il trend continua la prossima potrebbe essere quella buona.